Cascina Valdemino è un'azienda agricola nata nel 1904. Non seminiamo solo il nostro riso, ma lo lavoriamo, lo confezioniamo e lo vendiamo per via diretta. Dal 2010 abbiamo annesso alla nostra azienda l'agriturismo e dal 2014 siamo accreditati come fattori didattiche. Per arrivare nella nostra Cascina è particolare il percorso che bisogna fare perché abbiamo 5,5 km o quasi 6 di strasterrata di ghiaia. È bella da percorrere perché possiamo trovare tutta quella che è la flora e la fauna che è quasi rinata grazie alle nostre coltivazioni a basso impatto ambientale per cui un ambiente molto particolare. Una ricetta non proprio del nostro luogo, è una ricetta che si trova solitamente in Toscana e a Roma. Siccome siamo una cascina multietnica, nel senso che la cascina è di proprietà di Franca, il genero è romano, il cuoco è della Basilicata, per cui siamo tutti un pochino in varie zone d'Italia. È una ricetta particolare che unisce tutti i nostri mondi. Si prende un pomodoro e gli si taglia la parte superiore, aiutandosi con un coltello lo si svuota. Ecco, con il coltello e il cucchiaio. A questo punto, questo pomodoro verrà passato con una passa verdure, noi l'abbiamo già fatto, e procediamo con il ripieno. Il riso intanto va usato un riso Roma, va benissimo, o un riso baldo. Si mette un cucchiaio abbondante per ogni pomodoro. Noi qui abbiamo messo tre pomodori, quindi metteremo tre cucchiai abbondanti. Aggiungiamo il pomodoro che abbiamo passato. Il composto deve essere piuttosto liquido, quindi bisogna andare anche un pochino ad occhio. Questa è la densità giusta. Aggiungiamo del basilico, delle foglie di basilico che dovremo tagliuzzare con le mani, quindi non con il coltello altrimenti perde l'aroma. del prezzemolo, che è stato anche questo tagliuzzato con le mani. Olio extravergine di oliva. E procediamo al riempimento, sempre aiutandoci con il cucchiaio. A questo punto possiamo rimettere il cappello. Aggiungiamo le nostre patate, che abbiamo tagliato a dadini. La forma non è importante, io ho deciso di tagliarla a dadini perché ha un tempo di cottura uguale al pomodoro. Quindi olio. A questo punto il piatto è pronto per essere infornato. Deve stare in forno per mezz'ora a 200 gradi. Il forno ovviamente deve essere già caldo. Lo lasciamo raffreddare per circa un'ora, un'ora e mezza e lo gustiamo tiepido. E buon appetito! E buon appetito!